questo programma è offerto da centro sportivo football 24 un'oasi sportiva immersa nella città le previsioni del tempo per la provincia di messina oggi lunedì 17 marzo cielo sereno con annuvolamenti sparsi le temperature si manterranno minime sui 13 e le massime sui 18 i 20 sofferanno deboli dal sud estero i mari calmi sia lo ionio che il tirreno a 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 Grazie a tutti.